padrone che cosa c'è dato che la ragazza rimarrà con noi per un po di tempo stavo pensando che forse vorrebbe offrirgli una stanza un po più comoda ripensandoci forse non mi è neanche permesso di salutarlo non lo vedrò mai più e non ho neanche salutato le mostrerò la sua stanza la mia stanza ma pensavo che vuole rimanere nella torre no allora mi segue avanti le dica qualcosa io spero che le piaccia qui il castello è casa sua ora e può andare dove vuole tranne che nella laove cos'è c'è nella laove? è proibita se ha bisogno di qualcosa la chieda ai domestici a cena l'ha invita a cena lei questa sera cenerà con me e non si tratta di un invito non